Stavolta niente scherzi con il Ljubljana. Dopo aver già concesso due vittorie agli sloveni, faranino di coda della Ebel, a un Bolzano finito fuori dalla zona play-off a seguito delle due sconfitte consecutive a Klagenfurt e Villach, servivano a tutti i costi i tre punti. E così è stato. Nel giorno del Family Day al Palahonda, di fronte a 2.800 spettatori, è finita 5-1 per i Foxes, che già nel primo tempo hanno subito messo in chiaro le loro intenzioni, passando al nono con Marco Insam, che non può sbagliare dopo un servizio al bacio di Di Casmirro. Il Ljubljana, presentatosi a Bolzano con appena quattro terzini e nove attaccanti, resiste come può agli assalti dei padroni di casa, che però vanno al raddoppio tre minuti prima della sirena con Brett Fleming, che scaglia una sassata che manda in delirio il Palahonda. Nella frazione centrale ci pensa Marcus Gander a mettere al sicuro il risultato, siglando il 3-0 dopo un bel suggerimento di Saviano. Il ritmo della gara scende e il Ljubljana trova il gol della bandiera con Gregor Koblar, che segna l'1-3 al diciassettesimo. Nessun problema per i biancorossi, che non si scompongono e nell'ultimo drittel chiudono i conti, prima con Pollastrone, bravo a controllare un disco respinto da Trelce su precedente conclusione di Fleming, mentre l'ultimo sigillo porta la firma di Steve Saviano, che in situazione di power play infila il disco nel sacco per il definitivo 5-1. Tre punti importantissimi che permettono a Bolzano di staccare il Klagenfurt e di restare agganciato al treno dei play-off. In questo momento le persone ne abbiamo tante, comunque adesso ci mancano 5 partite, sono tutte 5 molto importanti, adesso prendiamo partita per partita, tempo per tempo e cerchiamo di vincere ogni tempo e alla fine speriamo di essere i primi 6. Comunque daremo il massimo ogni partita per arrivare là. A cinque giornate dalla conclusione della regular season, il Bolzano è settimo in classifica con 63 punti, a una lunghezza dall'ultimo posto che dà l'accesso ai play-off, attualmente occupato dal Villach. E in tal senso questa sarà la settimana decisiva per i Foxes, attesi a un'altra tripletta di trasferte. Domani a Innsbruck, sabato a Feherwer e domenica a Vienna, prima dei due match conclusivi, entrambi in casa, con Dorbirn e Sapa Feherwer.